Il presidente del Consiglio Mario Draghi visita a Bergamo la città martire della pandemia per commemorare la giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Non accadrà più che le persone fragili non vengano assistite protette. Dobbiamo ricostruire senza dimenticare le parole del Premier che poi assicura recupereremo il tempo perso nella campagna di vaccinazione. Atteso per questo pomeriggio il probabile via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco al vaccino di AstraZeneca con nuove avvertenze per i soggetti a rischio. Intanto è scontro con la Gran Bretagna sulle esportazioni. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è detta pronta ad usare ogni strumento per ottenere reciprocità e proporzionalità nella regione di Parigi. Torna il lockdown alle 19 l'annuncio. Il sottosegretario alla salute Paolo Sileri avverte chi si rifiuta di vaccinarsi con AstraZeneca non può sceglierne un altro a meno che non ci sia una decisione del medico legata a specifici motivi di salute. Il governatore dell'Emilia Romagna interviene sui sanitari che hanno rifiutato di immunizzarsi. Chi non si vaccina non potrà lavorare dice Stefano Bonaccini. A proda domani in Consiglio dei Ministri il decreto sostegni da 32 miliardi di euro che consentirà rimborsi più rapidi alle imprese a partire dal 10 aprile. Prevista un unotantum da 2400 euro per gli stagionali per tre mesi un miliardo e mezzo per il fondo taglia contributi ai lavoratori autonomi. 5 le fasce degli aiuti alle imprese a seconda del fatturato ma restano da sciogliere i nodi critici della cancellazione delle cartelle fiscali e quelli relativi alla proroga dei licenziamenti. Gli auguro buona salute senza ironia e senza scherzi lo ha detto questa mattina il presidente russo Putin in risposta a quanto affermato ieri dal presidente americano Biden che aveva definito il leader russo un assassino. Mosca ha ritirato l'ambasciatore e avverte queste dichiarazioni molto negative dimostrano che la Casa Bianca non vuole rimettere in sesso i rapporti già deteriorati con il nostro paese. Per ora no comment dall'Europa. Sconfitta per 2 a 1 a Monaco anche la Lazio ultima italiana in gara dice addio alla Champions League. In Europa League sono ancora in corsa Roma e Milan impegnate oggi. La squadra di Fonseca alle 18 affronterà a Kiev lo Shakhtar Donetsk si parte dal 3 a 0 dell'andata per i giallorossi. Il Milan che ospita il Manchester United ritrova Ibrahimović dal primo minuto 1 a 1 il risultato dell'andata. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Dunque cominciamo subito dal discorso del presidente del Consiglio a Bergamo nel giorno in cui il capo dello Stato ha promulgato la legge in memoria delle vittime del Covid. Mario Draghi ha fatto un discorso molto significativo. Ha detto che oggi sarà la giornata della memoria, il 18 marzo. Che non intende nessuno assolutamente dimenticarsi di quanto è avvenuto. Ha detto che sono qui per ringraziarvi, per andare avanti. Lo Stato c'è e sempre ci sarà. Temporanea e precauzionale la sospensione del vaccino AstraZeneca. Oggi l'EMA deciderà e comunque la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità e gli stessi obiettivi. È l'impegno la promessa più importante di Mario Draghi. Poco fa da Bergamo dove a giugno ci fu l'analoga visita del capo dello Stato Sergio Mattarella. Parole che arrivano dopo il criticato silenzio di Draghi in seguito al forzato dimezzamento delle vaccinazioni in Italia. È la sua prima trasferta da Presidente del Consiglio nella giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus istituita proprio oggi. Un anno fa l'immagine che Draghi ricorda più di altre indelebile della tragedia. La colonna di camion militari carichi di bare. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato. Draghi parla di tristezza e speranza un anno dopo. Lo Stato c'è e ci sarà risponde al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha ricordato i numeri dei morti nella città martire del Covid. I morti in solitudine, i lutti che non si sono potuti elaborare. Persone, famiglie, dolori di moltissimi anche tra gli operatori del bene in prima linea. Alcuni dei quali citati con nome e cognome dal Presidente del Consiglio. Un prete, sindaci, operatori sanitari, forze dell'ordine. Per la giornata dedicata alle vittime si è scelto di creare un bosco del ricordo vicino all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Trincea della resistenza al male. Bosco che sarà luogo simbolo del dolore di un'intera nazione, dice Draghi, ma anche luogo simbolo del riscatto. Siamo qui per celebrare la memoria, per celebrare il ricordo. Perché la memoria di ciò che è accaduto nella primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei cittadini. E dunque, prima di tutto l'impegno sulle vaccinazioni, l'incremento delle forniture di alcuni vaccini, aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche, dice il Presidente del Consiglio, che ricorda di aver già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti. Sapere reagire e trasformare lutte e difficoltà in voglia di riscatto, la comunità bergamasca, è stato un esempio, conclude Draghi. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare. Ecco, l'avete appena sentito, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che la campagna vaccinale continuerà con sempre maggiore intensità, a prescindere da quello che sarà l'esito dell'indagine sul vaccino di AstraZeneca da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco. Dunque, alle 16 è atteso questo risponso, sapremo se si potrà riprendere a vaccinare le persone anche con questo farmaco anti-Covid. Sappiamo c'è stata questa sospensione precauzionale, però nel frattempo tante altre agenzie regolatorie stanno dando un parere positivo. Ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ripetuto questa mattina che consiglia a tutti i paesi europei di riprendere queste vaccinazioni perché i benefici sono di gran lunga superiori ad i rischi. Lo stesso ha fatto l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano. Ha detto dai dati che abbiamo potuto analizzare, non c'è nessun nesso causale e nessun problema causa-effetto. L'analisi degli ultimi dati, una riunione mattutina con i 60 membri del Comitato per la Sicurezza e alle 16 il rapporto finale. L'EMA presumibilmente darà il via libera alla ripresa delle vaccinazioni con le dosi di AstraZeneca sospese in 16 paesi dell'Unione Europea. Sarà la direttrice Emer Cook a spiegare che i benefici del vaccino sono superiori ai rischi. Messaggio ribadito anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e inviterà quindi a procedere, visto che, dati alla mano, i casi di trombosi verificatisi dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese che avevano portato allo stop sono 30 su 5 milioni. È probabile però che sarà proprio il Comitato Scientifico a spingere per inserire dei paletti. C'è un'avvertenza nel foglietto illustrativo su possibili effetti collaterali, seppur rari. Si attende quindi con trepidazione il rapporto finale di Amsterdam che dovrebbe così ridare vigore alla campagna di vaccinazione nell'Unione Europea che, fra mancanza di dosi e stop imprevisti, ha subito dei rallentamenti nelle ultime settimane. Ieri la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha assicurato che entro l'estate 200 milioni di persone sopra i 18 anni saranno vaccinate, sempre che non si interrompa appunto la fornitura prevista. La Commissione sta preparando una lettera da inviare ad AstraZeneca per risolvere il conflitto contrattuale sulla mancata consegna delle dosi. E sulla questione export si è aperto anche uno scontro fra Bruxelles e Londra, visto che le dosi partite dal continente verso la Gran Bretagna sono state circa 10 milioni, mentre non è accaduto il contrario per le dosi prodotte negli stabilimenti oltremanica. Il Ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha negato ieri che ci sia stato un blocco delle esportazioni, ma anche la Gran Bretagna si trova ora a dover fare i conti con una mancanza di vaccini. Londra ha corso forse troppo in fretta, vaccinando quasi il 38% della popolazione con la prima dose, la seconda in Gran Bretagna avviene dopo tre mesi e non tre settimane. E si trova ora a dover rallentare. E mentre corre la campagna di immunizzazione, anche il virus con le sue varianti corre ancora veloce. In Francia è atteso per le 19 l'annuncio del governo di nuove restrizioni nelle regioni di Parigi, dove il tasso di incidenza dei contagi ha superato quota 400 su 100.000 abitanti. Macron che ha annunciato restrizioni innovative. Insomma, staremo a vedere alle 19 che cosa succederà in Francia, a Parigi in particolare. Per quanto ci riguarda la campagna vaccinale è pronta ad una fortissima accelerata. Bisogna assolutamente recuperare le centinaia di migliaia di dosi che non sono state somministrate dopo lo stop ad AstraZeneca. A quel punto bisogna anche al contempo ridare fiducia ai cittadini, spiegare perché è così importante vaccinarsi. È solo così che potremmo metterci alle spalle questo anno durissimo e questa pandemia così tragica. A quel punto chi vorrà potrà andare a vaccinarsi in diverse strutture. Si sta mettendo appunto in opera tutto quanto è necessario, importante e non si potrà scegliere quale vaccino ottenere. Nella campagna vaccinale saranno arruolati anche infermieri e farmacie. La corsa contro il tempo per aumentare il numero di immunizzazioni a breve potrebbe avvalersi di nuovi elementi. Dopo odontoiatri, medici di famiglia specializzanti, allargare la platea di luoghi e persone dove somministrare le dosi che arriveranno nel nostro paese servirà a raggiungere il prima possibile. L'obiettivo fissato dal governo, arrivare a settembre all'immunità di gregge, vaccinare chiunque lo voglia, come ha ripetuto più volte il ministro della Salute e Speranza che ieri ha annunciato l'arrivo nei prossimi sei mesi di 130 milioni di dosi. Le modalità con cui verranno coinvolti i farmacisti e infermieri verranno decise nelle prossime ore. Prima però occorre fare i conti con i ritardi dovuti al temporaneo stop del vaccino AstraZeneca. Dopo il pronunciamento dell'EMA atteso nel pomeriggio, sarà l'AIFA a dover raccogliere le indicazioni dell'Agenzia Europea per i medicinali e consentire la ripresa delle vaccinazioni del prodotto al momento sospeso, ripresa che dovrebbe avvenire se non ci saranno ulteriori colpi di scena per domani. Ci vorrà del tempo per riprogrammare le decine di migliaia di prenotazioni annullate almeno due settimane, ma per farlo si pensa a un ampliamento dei turni degli operatori nei centri vaccinali che saranno aperti anche nei weekend. In caso di rinunce verranno inviati messaggi a tutte le persone in attesa per non sprecare nemmeno una fiala, ma al momento non sono previste penalizzazioni per chi dirà di no alla propria dose. Chi rinuncia però non potrà scegliersi il vaccino, solo un medico può decidere che per il tuo stato di salute sia necessario farne un altro, precisa in un'intervista a radio Cusano Campus il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. Nessuna misura punitiva, quindi nemmeno per chi tra gli operatori sanitari decide di non vaccinarsi. Sul tema però è intervenuto oggi il governatore dell'Emilia Romagna, Bonacini, che tuttavia commenta, non so se serva l'obbligo vaccinale, ma penso che se non ci si vaccina non si può lavorare nelle strutture sanitarie. Il futuro dunque sarà quello di una stragrande maggioranza della popolazione immunizzata dal Covid, di un ritorno alla normalità, anche perché, come ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dobbiamo poter rialzare la testa. Però purtroppo dobbiamo ancora guardare all'oggi, ed è un bel panorama. L'Italia continua ad essere costretta a fortissime misure restrittive e i dati giornalieri di nuovi contagi e di decessi sono molto preoccupanti. In Puglia gli ospedali sono pieni. È stata superata la soglia dei 1.800 pazienti ricoverati. Ieri una nuova impennata di casi. Non c'è un posto libero nelle terapie intensive e con una circolare la Regione ha disposto lo stop ai ricoveri programmati, sia chirurgici che medici. Ospedali sotto stress, anche nelle Marche, in Trentino, in Campania, nei pronto soccorso di mezza Italia, si torna a sentire la pressione dei momenti più difficili del picco. Il numero dei nuovi ingressi in rianimazione in un mese è quasi raddoppiato. I dati del contagio Covid non sono rassicuranti. La curva non si abbassa, anzi, le varianti dilagano dal bollettino di ieri più di 23.000 nuovi positivi, quasi 2.700 più del giorno prima, con quasi 370.000 tamponi, il tasso di positività che risale al 6,2%. 431 i morti, dato che si è un po' abbassato rispetto al giorno precedente quando si era superata la soglia dei 500. Dal confronto con lo stesso giorno della settimana scorsa, nessun miglioramento. Il quadro pandemico resta pressoché invariato, ma è proprio dai presidi ospedalieri che scatta l'allarme più forte. Nei reparti ordinari salgono i ricoverati con sintomi più 419 e nelle terapie intensive. Nel saldo tra ingressi e uscite troviamo un netto, più 61. In tutta Italia i posti letto occupati salgono a 3.317, circa il 40% della disponibilità. In dieci regioni il numero dei posti letto Covid supera la soglia limite del 40%. Gli ingressi giornalieri, rianimazione, secondo il Ministero della Salute, ieri sono stati 324, ma è così tanti da quando viene comunicato il dato. E il totale dei ricoveri giornalieri, 26.517, ci avvicina ai numeri della prima ondata. Era il 4 aprile dell'anno scorso quando si toccò il picco con 29.010 persone in ospedale. Ecco, c'è appena arrivata notizia che il Comitato per la Sicurezza dell'EMA sta già tenendo la riunione straordinaria. Dunque al termine di questa riunione verranno rese noto le conclusioni appunto dell'indagine sul vaccino AstraZeneca. Dunque in un quadro che vede l'Italia ancora colorata di rosso e di arancione. Dunque in forte emergenza c'è anche chi se la passa un po' meglio e dunque cerca di fare di tutto per non precipitare insieme agli altri. È il caso della Sardegna. La priorità della regione Sardegna ora è difendere la zona bianca e il territorio faticosamente strappato al virus. Nonostante i focolai ancora presenti sull'isola della Maddalena e in altri due comuni, Sindia e Sarroc, le uniche tre zone rosse sarde. Il presidente Cristian Solina, stemendo un assalto dei proprietari di seconde case nella sua isola, soprattutto per Pasqua, ha dato un'ulteriore stretta agli arrivi con l'ordinanza firmata ieri sera in cui si legge che l'ingresso in Sardegna per i non residenti è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o per necessità o per motivi di salute e comunque presentando la documentazione relativa alla vaccinazione avvenuta o alla negatività al tampone. Un inasprimento rispetto all'ordinanza precedente che prevedeva per gli arrivi sull'isola vaccino, tampone o in alternativa quarantena. Anche le compagnie aeree e gli armatori prima dell'imbarco devono verificare la registrazione dei passeggeri sull'applicazione Sardegna Sicura. L'ordinanza è valida da oggi al 6 aprile, Pasqua compresa dunque, ma c'è chi teme, come il sindaco di Arzachena, comune che comprende la Costa Smeralda, che i controlli in entrata nei porti e negli aeroporti non siano efficaci. In Regione assicurano che i controlli sono stati rafforzati anche grazie al coinvolgimento della Polizia Forestale, mentre la Polizia Locale, con dei sopralluoghi, controllerà chi realmente abita nelle seconde case. La decisione di irrigidire le misure regionali presa dalla Sardegna segue quelle analoghe della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige, che da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decreto del Governo, vietando l'ingresso in Regione ai proprietari di seconde case non residenti. Ancora più rigida l'ordinanza della Campania, che vieta gli spostamenti verso le case di vacanza, a tutti, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza è comunque per il tempo strettamente indispensabile. Il provvedimento sarà in vigore fino al 5 aprile. Sardegna che giustamente guarda la propria economia basata sul turismo. Questa mattina in un discorso all'Europarlamento, la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto che ci si aspetta dei miglioramenti per il 2021, ma che allo stato attuale a causa della pandemia le incertezze permangono molto alte. Per quanto ci riguarda, domani finalmente è la giornata in cui dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il decreto sostegni. Entro il 30 marzo la piattaforma per chiedere gli aiuti e dentro il 10 aprile l'invio dei primi pagamenti. Una tantum da 2.400 euro per gli stagionali per tre mesi, un miliardo e mezzo per il fondo taglia contributi ai lavoratori autonomi. E poi gli aiuti a fondo perduto per le imprese fino a 10 milioni di ricavi saranno distribuiti per 5 fasce percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi. Comincia a prendere forma il decreto sostegni che il governo Draghi vuole approvare nel Consiglio dei Ministri fissato per domani e che oggi il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha illustrato ai capigruppo della maggioranza. Il provvedimento utilizzerà tutti e 32 miliardi di euro dell'ultimo scostamento di bilancio per aiutare imprese, lavoratori e famiglie a sopravvivere alla crisi economica. E di questi circa 500 milioni saranno messi a disposizione a copertura degli emendamenti che il Parlamento nella fase di conversione del decreto in legge vorrà eventualmente fare. I vertici politici si susseguono anche oggi perché restano da sciogliere ancora dei nodi. Primo tra tutti la cancellazione delle cartelle fiscali. Sullo stralcio dei 61 milioni di cartelle fiscali del periodo tra il 2000 e il 2015 fino a 5.000 euro che valgono circa 70 miliardi di euro le distanze tra le forze politiche restano e bisogna trovare un compromesso tra chi grida al condono ritenuto ingiusto dalle EU, PD e anche sindacati favorevoli invece ad un criterio selettivo per cancellare solo i debiti fiscali delle imprese fallite o dei contribuenti defunti. E chi invece, 5 Stelle, Lega e Forza Italia spinge per un colpo di spugna integrale. L'altro punto critico riguarda il blocco dei licenziamenti che per il Ministro del Lavoro Orlando dovrà essere prorogato fino a giugno per i lavoratori che hanno diritto alla Cassa Integrazione a ottobre per tutte quelle categorie di dipendenti che non hanno questo ammortizzatore sociale. Vedremo domani quali saranno le soluzioni che usciranno dal Consiglio dei Ministri anche sul capitolo lavoro tra le priorità visti i numeri drammatici che arrivano oggi dall'Inps. Nel 2020 a causa del Covid c'è stato un crollo delle assunzioni del 31% rispetto all'anno precedente e nel solo mese di dicembre la perdita di posti di lavoro ha riguardato circa 660.000 unità. I lavori licenziamenti si preoccupano chiaramente i sindacati con una lettera unitaria ai ministri dello sviluppo economico Giorgetti e del Lavoro Orlando i sindacati nazionali dei metalmeccanici chiedono la convocazione urgente di un incontro sulle tante crisi aziendali ancora aperte. Occorre scongiurare situazioni di tensioni e ingovernabilità nei territori interessati scrivono FIOM, FIM e WILM che in assenza di risposte e di un appuntamento preciso annunciano per venerdì 26 marzo alle ore 10 l'autoconvocazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Ora la politica ci porta in casa del Partito Democratico dove c'è molto fermento a pochi giorni dalla elezione del nuovo segretario Enrico Letta che intende appunto rifondare il suo stesso partito per poter poi creare delle alleanze, delle sinergie con l'intero centro-sinistra. Letta dunque vuole ripartire da zero con un ampio confronto e in questi giorni il tema, il banco di prova tra i tanti è sicuramente quello della candidatura al sindaco di Roma. Parte dall'incontro con Carlo Calenda il leader di azione, il giro di orizzonte è di Letta con i potenziali alleati per costruire un centro-sinistra ampio perimetro che va dai 5 Stelle alla sinistra passando dal centro, agenda che prevede anche un incontro con Renzi nonostante i trascorsi tra i due ma l'incontro di oggi che fissa come orizzonte comune il sostegno al governo Draghi e lo sforzo antipandemia ha una ricaduta su un altro cantiere cruciale quello della capitale. Calenda, già scese in campo per Roma parla di dialogo su iniziative nazionali e locali suggestione che sembra aprire uno spiraglio per una candidatura condivisa possibilità sul punto di saltare con la candidatura di Gualtieri resa nota martedieri entrata ieri dopo un incontro con il segretario P.D. Letta che ha congelato la situazione spostando ad aprile il tempo delle decisioni il dossier infatti è delicato e difficilmente può essere slegato dalla partita delle alleanze nei prossimi giorni Letta vedrà tutti i leader dei partiti interessati a cominciare da Conte e se le prossime elezioni nazionali sono un orizzonte politico le amministrative di ottobre potrebbero fare dal laboratorio Roma in testa da qui la necessità di evitare fuga in avanti intanto dal fronte 5 Stelle oggi si registra la manottesa di Di Maio ho sempre lavorato bene con Letta è una persona in cui ho molta fiducia l'alleanza tra P.D. e 5 Stelle sarà rafforzata ma non deve essere solo elettorale è necessario guardare ad orizzonti lontani per crescere insieme non accantona neanche lo Iussoli che rinvia però al dibattito europeo anche da sinistra Bersani benedice la coalizione nega però di voler rientrare nel P.D. Bene il campo di centro-sinistra allargato alleato con i 5 Stelle a Zingaretti non lo hanno permesso Letta può farlo dobbiamo costruire qualcosa di nuovo che assomiglia all'ulivo spalancare le porte sul fronte interno invece il segretario P.D. muove i primi passi anche sulla squadra ieri la nomina dei due vice Irene Tinali economista liberale Beppe Provenzano ex ministro del Sud oggi il via libera alla segreteria 18 esponenti 8 uomini 8 donne si abbassa l'età media molte new entry come Mauro Berruto ex CT della nazionale maschile italiana palla a volo torna in campo anche l'ex ministro Francesco Boccia è stato assolto in secondo grado di giudizio l'ex vice ministro alle infrastrutture del primo governo Conte Riccardo Rixi incriminato per peculato e falso in primo grado per le spese e rimborsi ottenuti quando era consigliere regionale Ligure tra il 2010 e il 2012 la Corte d'Appello ha assolto anche gli altri 19 imputati consiglieri di tutti gli schieramenti politici nell'indagine erano finiti scontrini per centinaia di migliaia di euro richieste di rimborsi con soldi pubblici che secondo l'accusa erano invece stati spesi a titolo personale o per il partito Rixi all'epoca dell'inchiesta si dimise dall'incarico di vice ministro ora è deputato e segretario regionale per la Lega di Matteo Salvini e commenta la sentenza di oggi così giustizia è fatta dice ora passiamo alle notizie dall'estero in particolare agli Stati Uniti d'America perché all'indomani delle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di una intervista televisiva in cui ha detto senza giri di parole che ritiene il presidente russo Vladimir Putin un assassino che pagherà caro per aver tentato di interferire anche nelle ultime elezioni presidenziali del 2020 naturalmente si sono susseguite tante reazioni prima c'è stata la reazione della Duma il portavoce Pieskov e poi anche dello stesso Vladimir Putin che senza mezzi termini poco fa ha detto la malizia sta negli occhi di chi guarda e chi lo dice sa di esserlo cosa rispondo a Biden gli auguro buona salute e non sono né ironico né sto scherzando ci tiene ad aggiungere questo dettaglio il presidente Putin intervenuto questa mattina su quella che almeno per un giorno è sembrata una gravissima crisi diplomatica quasi da guerra fredda fra Stati Uniti e Russia con l'uno il presidente americano a dare del killer all'altro mentre un attimo dopo l'ambasciatore Anatoly Antonov veniva richiamato a Mosca e non è certo cosa che capiti tutti i giorni l'ambasciatore partirà sabato il tempo di fare le valigie Antonov lascerà a Washington e non si sa esattamente quando tornerà ci consulteremo con lui e con le altre agenzie governative quanto tempo ci vorrà il tempo necessario ha detto la portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova anche perché ha aggiunto siamo stanchi di tradurre le loro incomprensibili sciocchezze segno che lo sgarbo brucia l'affronto non è certo stato ignorato che come ha detto il portavoce del Cremlino è evidente che non vi sia la volontà di migliorare i rapporti fra le due amministrazioni e che insomma mai prima d'ora c'erano state simili dichiarazioni nella storia degli Stati Uniti e della Russia e dare del killer a Putin porterà conseguenze ma che forse qualche margine di recupero c'è dunque si aspettano spiegazioni plausibili cerca di starne fuori l'Europa che interpellata ha molto diplomaticamente risposto che l'Unione ha una propria esperienza di rapporti e che anzi l'Europa sta definendo una strategia che non è collegata alle posizioni dell'amministrazione americana e del suo presidente sui motivi che hanno portato Biden ad esprimersi con questa durezza ovviamente le interpretazioni si sprecano non esclusa almeno dai russi l'ipotesi di una gaffe resta il risentimento per gli attacchi ricevuti dal figlio di Biden nella vicenda ucraina il rinnovato dominio russo comunque il suo attivismo in vari teatri del mondo dalla Libia alla Siria per non parlare della cosiddetta diplomazia dei vaccini che vede la Russia distribuire lo Sputnik in diversi paesi emergenti contribuendo ad una sudditanza di fatto a Mosca molto in visa all'America sono ormai quasi definitivi i dati sul voto in Olanda che ancora una volta conferma vincitore dopo 14 anni di governo il partito del premier Mark Rutte i popolari per la libertà e la democrazia guadagnano tre seggi in più rispetto a sorpresa salgono i liberali di sinistra che sorpassano la formazione del populista di destra Wilders battuta d'arresto anche per i democristiani e i verdi con 202 voti a favore 141 contrari e due astensioni la Camera dei Deputati ecco sì siamo in Spagna la Camera dei Deputati spagnola ha approvato oggi la legge sull'eutanasia che entrerà in vigore entro tre mesi facendo così della Spagna il settimo paese a riconoscere questo diritto ora torniamo in Italia a Pavia perché lì sono ancora molto elevati i numeri dei nuovi contagi di coronavirus e purtroppo anche i decessi però c'è chi come la Guardia di Finanza e la Magistratura è costretta proprio in questo periodo ad occuparsi di appalti truccati per il trasporto nelle ambulanze appalti truccati per sbaragliare la concorrenza in quello che in questo momento è il settore più esposto delicato e costantemente sotto pressione quello sanitario è quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Pavia che oggi ha messo quattro persone agli arresti domiciliari il direttore generale della SST di Pavia Michele Bright un funzionario dell'azienda sanitaria territoriale e due gestori della cooperativa First Hide One Italia molto attiva sul territorio lombardo e in altre regioni accusati di turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture al centro dell'inchiesta un appalto da 2 milioni e 300 mila euro per il trasporto in ambulanza dei malati da un ospedale all'altro dei sette più importanti della provincia di Pavia i due di Vigevone Voghera quello di Mortara Stradella e Casorate Primo escluso il San Matteo di Pavia appalto chiuso secondo gli inquirenti dalla SST volutamente al ribasso con tariffe oltre il 25% inferiori rispetto a quelle di Regione Lombardia che hanno già uno standard molto accessibile proprio per escludere la concorrenza ma il vero elemento inquietante che emerge dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbe il contesto igienico-sanitario molto carente delle ambulanze in un momento così delicato per l'emergenza Covid-19 in cui spesso bisogna trasportare d'urgenza pazienti che hanno contratto il virus veicoli non sanificati vecchi o poco adatti al tipo di lavoro da svolgere inadeguati anche dal punto di vista numerico come è emerso dalle numerose segnalazioni di medici e pazienti rispetto agli accordi riportati nel contratto d'appalto spesso parcheggiati nelle strade delle città per poi essere utilizzati il giorno dopo invece che fatti rientrare nelle basi ospedaliere ma l'inchiesta della Procura di Pavia è solo all'inizio nei prossimi giorni verrà ascoltato anche il personale dipendente per capire meglio con quale tipo di trattamento contrattuale la società li ha gestiti ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo le notizie sportive ed eventuali aggiornamenti a tra poco eccoci di nuovo qui allora ripartiamo dal calcio perché finisce agli ottavi di finale l'avventura delle squadre italiane in Champions League ieri sera anche la Lazio ha salutato la competizione europea sconfitta per 2 a 1 a Monaco di Baviera contro il Bayern e questa sera Roma e Milan in Europa League il calcio italiano saluta la Champions League nessuna italiana tra le migliori otto d'Europa proprio come 5 anni fa la nostra Champions si ferma alle porte dei quarti di finale con la Lazio che si aggiunge a Juventus e Atalanta la massima competizione europea che per la prima volta nei quarti non avrà né Messi né Cristiano Ronaldo non vedrà in campo neanche la scarpa d'oro di Ciro Immobile ieri in panchina per un'eliminazione praticamente annunciata dai 4 gol subiti nella gara di andata il Bayern campione di tutto va in gol due volte con Lewandowski su rigore prima e con Ciupo Moting dopo la Lazio risponde con orgoglio con la rete di parolo nel finale nella sua Champions la prima dopo 13 anni la Lazio non ha rimpianti ha superato la fase a gironi imbattuta per poi scontrarsi con i detentori in questi ottavi di finale il campo ha confermato il divario che c'è con i bavaresi tra i favoriti per alzare la Coppa ma la squadra di Inzaghi esce a testa alta e da adesso punterà all'altra impresa quella di ripresentarsi su questo palcoscenico anche il prossimo anno il nostro obiettivo era quello insomma di tornare agli ottavi dopo 20 anni e ce l'abbiamo fatta e c'era un po' di dispiacere per come era andata la partita dell'andata insomma sapevamo che trovavamo la squadra campione d'Europa campione del mondo e penso che stasera abbiamo fatto un'ottima gara e lasciamo questa competizione una testa alta ricordando che abbiamo chiuso come unica italiana imbattuta nelle sei partite del girone soltanto l'Europa League può riscattare il calcio italiano a livello continentale toccherà a Milano e Roma in campo stasera cercare di portare avanti il tricolore del pallone imprese possibili soprattutto per la Roma che si presenta Kiev per affrontare lo Shakhtar dei brasiliani forte del 3 a 0 maturato la settimana scorsa all'Olimpico arrivare fino in fondo la Coppa Minore vale comunque tanti soldi e andare avanti rafforzerebbe la posizione del tecnico Fonseca più complicato anche se decisamente alla portata il passaggio ai quarti per il Milan l'avversario è di quelli importanti stasera nel Manchester United giocherà anche Pogba ma l'1 a 1 visto all'Old Trafford ha ridimensionato gli inglesi che adesso fanno meno paura al Milan va bene anche lo 0 a 0 e tra i titolari oltre a Cialanoglu potrebbe tornare anche Ibrahimović Pioli deciderà all'ultimo momento Quello della 24esima giornata della Serie A tra Torino e Sassuolo si è concluso con l'importantissima vittoria ottenuta in rimonta dai Granata gli Emiliani avevano infatti chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti a 0 grazie alla doppietta di Berardi la svolta per la squadra di Nicola si è concretizzata nella ripresa con l'ingresso dalla panchina di Simone Zaza l'ex Nero Verde ha prima accorciato le distanze e poi dopo il pareggio messo a segno da Mandragora ha realizzato di testa e in pieno recupero la rete del 3 a 2 la vittoria di ieri consente al Torino che dovrà recuperare anche il match con la Lazio di superare il Cagliari e risalire in classifica al quart'ultimo posto e poi c'è il tennis Yannick Sinner ha conquistato i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Dubai grazie al successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut numero 11 del ranking mondiale per andare in semifinale il 19enne Altautesino affronterà oggi il russo Karaziev senza soffrire senza esultare senza esternare nulla ma vincendo come un robot una macchina è lo stile del 19enne Yannick Sinner che ha conquistato la sua maniera senza scomporsi gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai Duty Free Championship eliminando il numero 4 del tabellone e 11 nel mondo Roberto Bautista Agut in 3 set l'Altoatesino ha vinto il primo set 6-4 mettendo a segno ben 16 ace nel secondo set c'è stato il ritorno di Bautista Agut che si è imposto 6-3 ma nel terzo decisivo Sinner ha sfruttato un calo dello spagnolo e ha chiuso 7-5 dopo due ore e mezzo di battaglia il prossimo avversario di Sinner che affronterà proprio oggi sarà il russo Asian Karaziev lo scorso mese semifinalista a sorpresa agli Australian Open nessun problema al piede più per Sinner che aveva accusato un dolore durante il match precedente con il kazago Bubik con la vittoria in 3-7 su Bautista Agut Yannick c'entra il nuovo miglior piazzamento in carriera al momento ancora virtuale raggiungendo la posizione numero 30 per quanto riguarda lo sport c'è una ultima ora perché c'è stato il rinvio di Inter Sassuolo dovuto alla positività dei calciatori interisti d'Ambrosio e Andanovic a cui si è appena aggiunta la certificazione di quella di Vesino e di De Vrij la squadra nero-azzurra ha ricevuto comunicazione in tal senso dall'ATS di Milano dunque la partita sarà rinviata era l'ultima notizia io ringrazio ancora per essere stati con noi l'informazione continua con Tiziana Panella e Tagadà arrivederci a domani